La forma perfetta. L'eloporcello vorrebbe essere magro come suo amico Furetto, che invece vorrebbe avere un po' di ciccia addosso. E così sono tristi e insoddisfatti tutti e due, senza un valido motivo. Non dobbiamo pretendere di essere riversi da come è la nostra natura, bassi, alti, magri o grassottelli. Siamo comunque noi e non è affatto detto che. Cambiando miglioreremmo. Dobbiamo imparare ad accettarci così come siamo. Se vogliamo che ci faccia lo stesso. Certo, qualche ritocco è sempre possibile e a volte è anche utile, ma l'importante è non perdere tempo a sognare di essere qualcun altro. Comunque, non fare come quelli che peggiorano la situazione per avere una scusa per lamentarsi ancora di più del loro aspetto. Attenta a non renderti vericolo cercando di apparire con trucchi vari, diverso da come sei. Se proprio sei insoddisfatto, invece di compiangerti, datti da fare. A tutto c'è un rimedio, basta cercarlo.